Grazie a tutti. E orificeria prima classe, gas, lotus e tanto altro ancora. Da Bellino potrai anche donare un sorriso a chi ne ha bisogno, con l'acquisto delle bomboniere solidali, cuore matto e argenti. Vieni a trovarci in Piazza Vittorio Veneto 30 31 32 ad Avola, telefono 0931 83 26 11. Bellino, il tuo ricordo per i tuoi invitati.